Ragazzi, lasciate un bel piacere, iscrivetevi al canale, se anche voi vi piace al mare di pomeriggio. Ragazzi, prima che inizi questo video, ricordatevi qui di iscrivervi al canale e ricordatevi anche qui la campanella, fino a vedere un altro video. Ora siamo pronti, al mare è saluto soltanto a me. Ciao! Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Infatti sono le 16 e 37, ormai poi siamo pronti per andare a mare e ci vediamo qui. Ragazzi, ora siamo qui in ascensore e siamo qui pronti, partiamo a mare, in questo sito quasi facevo partire a mare. Quindi ci vediamo a mare. Ragazzi, anche qui siamo in spiaggia e dove stiamo anche facendo questa cosa che ormai tra un po' poi dobbiamo... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.